A tutti ben sintonizzati su Radio Speranza, la radio della nostra bella Diogesi di Pescara Pescarapenne, abbiamo con noi un presentatore, lei di che Dio è? Radio Speranza, la radio di Pescara Penne Ah, quindi è un nostro diosesano Sì E dove abitate? Abito vicino Stella Maris, la pinita di Pescara Ecco, state sentendo la voce di Davide Ciliento Ti vuoi un po' presentare un po' tu da solo magari? Che fai Davide? Sì, io sono presidente di un'associazione teatrale Che ha sede nella parrocchia del Beato Nunzio Supplizio In via Alessandro Volta, Pescara E come associazione ci occupiamo di teatro del sacro E in più faccio il cammino, un cammino spirituale Nella fraternità Stella Maris di Pescara Come terziario francescano, un francescano laico Ecco, questa mattina volevo appunto parlare di un impegno teatrale Che stiamo facendo, un laboratorio teatrale Che stiamo facendo nella parrocchia del Beato Nunzio Supplizio Sulla figura di San Bernardino da Siena Il tema di questa puntata è San Bernardino da Siena profeta oggi Il teatro del sacro E per una nuova catechesi multimediale nelle sale della comunità ecclesiale Bene, caro Davide Sei qui questa mattina, hai detto Ma andrei in onda anche di notte e di pomeriggio Quindi ti manderei in onda parecchie volte durante la giornata A diverse fasce orarie Va benissimo Allora ti auguriamo una buona trasmissione E ti do la parola e puoi iniziare subito a parlare di questo bellissimo argomento Grazie a Radio Speranza e grazie al direttore Don Remo Partiamo dall'insegnamento sul bene comune del francescano San Bernardino da Siena Cosa vuole dirci questa mattina San Bernardino da Siena? Vuole parlarci di crisi Ma non di quella materiale Ma di quella morale Quella che attanaglia la nostra società e le nostre città Affronteremo l'evangelizzazione su due principi fondamentali Nella prima parte farò riferimento alla predicazione evangelizzazioni del santo Avvenuta in Firenze nel periodo quaresimale del 1425 Nella seconda parte affronteremo il tema specifico del teatro del sacro E nella terza parte parleremo di nuova evangelizzazione E parleremo della nuova catechesi multimediale all'interno delle sale della comunità ecclesiale Partiamo dall'insegnamento di San Bernardino da Siena La crisi morale viene affrontata da San Bernardino da Siena in maniera semplice e diretta In tre aspetti Primo aspetto La tribolazione Dice il santo che l'uomo dopo il peccato originale Ha due vestiti Il primo è vestito E appunto il peccato originale Il secondo vestito è la fatica La tribolazione Come cristiani battezzati Dobbiamo lasciare la veste della colpa E prendere la veste bianca Quella della purezza Quella veste candida e bella E se l'uomo dovesse cadere Può Riottenere la veste bianca con la penitenza Con la confessione Dice San Bernardino Però il peccato Non diventi una cattiva abitudine Un vizio Se ti diletti nei vizi e peccati Sappi che avrai tribolazioni in questo mondo Dio non voglia che tu perdessi la coscienza del peccato Questa mattina Parliamo di peccati della nostra società Che segue lo spirito della mondanità Lussurie Convivenze Rapporti sessuali prematrimoniali Ateismo pratico Droga Alcolismo Gioco d'azzardo Mancanza di timor di Dio Allontanamento dalla preghiera Quando l'uomo e la donna Si dilettono in questi vizi e peccati Sappiano di certo Che avranno tribolazioni in questo mondo Ecco questo ci dice San Bernardino Dice il santo Che il fondamento Del vero amore tra l'uomo e la donna Si fonda da quell'affetto puro Che porta l'uno ad essere onesto con l'altro Tutti gli ambiti dell'esistenza di qualsiasi cittadino La vita civile Politica ed economica Devono essere guardati e illuminati da una luce nuova Dall'insegnamento di Cristo E della Chiesa Passiamo al passaggio Al secondo punto La lamentazione Dice San Bernardino da Siena Cosa fa l'uomo Quando è nella tribolazione Conseguenze di vizi e peccati Il primo atteggiamento È quella della lamentazione Del lamentarsi L'uomo si lamenta con Dio e con i fratelli Di tutte quelle cose che non vanno Pensiamo alla mancanza di lavoro La disoccupazione Alla corruzione Alla crisi materiale Nella maggior parte dei casi Quando l'uomo perde la coscienza del peccato Non fa altro che lamentarsi Mettendo in risalto solamente il negativo Pensiamo ai TG in televisione I telegiornali Parlano solo di fatti di cronica di negatività Non mettendo in luce il bene La solidarietà La cultura L'arte Che pur si muove nelle nostre città Chi vive dello spirito del mondo Non riesce a discernere Che le cose che non vanno La crisi materiale La corruzione La disoccupazione L'indigenza Non sono effetto di una crisi esterna Ma di una crisi spirituale Morale E di perdita di valori umani Bisogna precisare che il peccato Non solo agisce sul corpo mistico di Cristo Ma agisce sul cosmo Sulla società Sull'ambiente E sulla polis Sulla città Questo fu il primo insegnamento Di San Bernardino da Siena Per quel che concerne il bene comune Ed era molto duro Su questo primo insegnamento Disse ai senesi In una predica di piazza del 1425 Sapete senesi Di cosa avete bisogno Avete bisogno Della medicina Del bastone Solo con le bastonate Vi potete drizzare Se andate dietro A vizi e peccati Non avrete pace In questa città Ma avrete solo Tribolazioni Adesso passiamo Al terzo punto Dell'insegnamento Di San Bernardino da Siena La consolazione Dove può trovare L'uomo e la donna La sua consolazione? Dove può lenire La sua inquietudine Che porta dentro di sé Dopo il peccato originale? Dice San Bernardino da Siena Che solo le due menze Il grazioso corpo di Cristo E la parola di Dio Possono consolare Il cuore umano E guarire L'inquietudine interiore Gesù È la sanità Dell'anima E del corpo Quante volte L'uomo cerca Dio In modo sbagliato? Pensa erroneamente Che i vizi L'alcol Il sesso La droga Le vanità Gli idoli Il materialismo Il consumismo Siano in grado Di venire La sua inquietudine Conseguenza Del peccato originale Che porta dentro di sé San Bernardino da Siena Su questo Terzo aspetto Della consolazione Mette in luce Il Vangelo di Giovanni Capitolo 6 Versetto 1 15 La moltiplicazione Dei pani Il grande discorso Sul pane della vita Gesù ebbe Compassione Della folla E anticipa La consolazione Sulla vita eucaristica Dopo questi fatti Gesù Andò All'altra riva Del mare di Galilea Cioè di Tiberiade E una grande folla Lo seguiva Vedendo i segni Che faceva sugli infermi Gesù Salì sulla montagna E là si pose a sedere Con i suoi discepoli Era vicina la Pasqua La festa dei Giudei Alzati quindi gli occhi Gesù vide Che una grande folla Veniva da lui E disse a Filippo Dove possiamo comprare Il pane Perché costoro Abbiano da mangiare Diceva così Per metterlo la prova Egli infatti sapeva bene Quello che stava per fare Gli rispose Filippo Duecento denari di pane Non sono sufficienti Neppure perché ognuno Possa riceverne un pezzo Gli disse allora Uno dei discepoli Andrea Fratero di Simon Pietro C'è qui un ragazzo Che ha cinque pani d'orzo E due pesci Ma che cos'è questo Per tanta gente? Rispose Gesù Fate risedere C'era molta erba In quel luogo Si sedettero dunque Ed erano circa Cinquemila uomini Allora Gesù Prese i pani E dopo aver reso grazie Ristribuì E quelli che si erano seduti E lo stesso fece dei pesci Finché ne vollero E quando furono saziati Disse ai discepoli Raccogliete i pezzi avanzati Perché nulla vada perduto Li raccolsero E riempirono dodici canestri Con i pezzi Dei cinque pani d'orzo Avanzati a coloro Che avevano mangiato Allora la gente Visto il segno Che egli aveva compiuto Cominciò a dire Questi è davvero il profeta Che deve venire nel mondo Ma Gesù Sapendo che stavano Per venire a prenderlo Per farlo re Si ritirò Di nuovo Sulla montagna Tutto solo Cosa vuole dirci San Bernardino da Siena E il capitolo Sì del Vangelo Secondo Giovanni San Bernardino da Siena Commenta questo Vangelo Con queste parole Dice Il pane d'orzo È la sacra scrittura Che come l'orzo Ha la scorza aspra Ma dentro È dolce Non ha molta eloquenza Ma è piena di sapienza Perché cinque pani? Per le cinque piaghe Di nostro Signore È Gesù Cristo Sono infatti ruvide Per la dura passione Ma soavi Per la nostra Redenzione E salvezza Che significano I due pesci? Il primo pesce È una buona coscienza Per una vita Di penitenza Il secondo pesce È la speranza Dio non ha mai detto Che saziasse Il suo popolo Di carne In pratica Come mettiamo in pratica Questo Vangelo? San Bernardino da Siena Cita la prima lettera Di Giovanni Capitolo 3 Versetti 16-18 Noi abbiamo imparato A conoscere Che cosa sia Il vero amore Dell'esempio di Cristo Che è morto per noi Perciò anche noi Dobbiamo dare La nostra vita Per i fratelli cristiani E non Ma se uno che dice Di essere cristiano Ha denaro a sufficienza E vede un fratello Bisognoso Ma non vuole aiutarlo Come si può dire Che in lui C'è l'amore di Dio? Figli miei Dimostriamo il nostro amore Non a parole Con bei discorsi Ma con i fatti Concretamente Ecco Abbiamo visto L'insegnamento Di San Bernardino da Siena Per quel che concerne Il bene comune Passiamo Al secondo aspetto Noi Come dicevo all'inizio Come associazione Teatrale Di Teatro del Sacro Nella Sala della comunità Del Beato Nunzio Supplizio A Pescara Stiamo facendo Un laboratorio teatrale Sulla figura Di San Bernardino da Siena Il frate Del bene comune Ci tengo A sottolineare Un altro aspetto Fondamentale Per quel che concerne L'arte teatrale Alcuni studiosi Alcuni studiosi Hanno dimostrato Che l'arte scenica È la via Più efficace Per canalizzare L'inquietudine Provocata dal peccato Originale E dall'inquietudine Contemporanea Chiamata Relativismo In questo contesto Il teatro Proprio perché Fondato sulla relazione Sull'incontro Intercopolare Tra l'io E il tu Costituisce Un'alternativa Particularmente efficace All'inquietudine E alla frustrazione Esistenziale Il teatro È anche un'alternativa Ai non luoghi Dell'utopia Globalizzante Negativa Pensiamo alle discoteche Centri commerciali Locale di slot machine Giochi d'azzardo Pub Questi non luoghi Sono nella maggior parte Dei casi Causa Di cattive Abitudini Il teatro Ha anche Un grande Effetto Terapeutico Per guarire Le inquietudini Interiori Il teatro È appunto Terapia Le sale Della comunità Ecclesiale Devono essere Punti di riferimento Per un nuovo Modello Di aggregazione Culturale Artistica In cui Il ruolo Del protagonista Non spetta All'evento Allo spettacolo Ma al pubblico A desiderio Partecipativo A un'estetica Che non è data E non si esaurisce Nell'oggetto presentato Secondo Il noto Ritornello Dell'arte Per l'arte Ma prende avvio E si consuma Nell'etica Intesa Non come istanza Moralizzante In senso prescrittivo Ma come istanza Sociocomunitaria In senso partecipativo La morale Nel senso pieno Del termine Del termine Per l'arte Per l'arte Per l'arte Per l'arte Per l'arte Per l'arte L'arte Per l'arma Adesso passiamo al terzo aspetto, parliamo di nuova evangelizzazione, una nuova catechesi multimediale all'interno delle sale della comunità ecclesiale. Quesiti e proposti per una nuova evangelizzazione. Noi come associazione teatrale di Teatri del Saco ci siamo posti queste domande. Come presentare il Vangelo all'insegnamento di San Bernardino da Siena sul bene comune ai giovani d'oggi? Come educare all'azione, all'evangelizzazione agli stessi cristiani fin d'ora rimasti chiusi e rigidi nelle proprie comunità? Il teatro ha bisogno anche del teatro multimediale? Come avvicinare i giovani, le famiglie fidanzate al Vangelo, alla morale, alla solidarietà, all'arte e ai valori della vita? Come interagire o entrare nella cultura cittadina? L'associazione d'Arash Teatro, Teatri del Saco, è impegnata con un cammino artistico basato sulle arti sceniche sulla figura del grande evangelizzatore San Bernardino da Siena. Dal mese di ottobre 2013, l'associazione è impegnata con un laboratorio teatrale sperimentale nella sala teatro della parrocchia del Beato Nunzio Supplizio di Pescara. Il nostro progetto teatrale del Sacro, oltre a essere un progetto artistico-culturale, vuole orientare nell'ambito della nuova evangelizzazione nella cultura contemporanea. Secondo uno studio della Federazione Gruppi Attività Teatrale, Federgatt della Conferenza Episcopale Italiana, l'attività teatrale, già nell'antica Grecia, ha avuto un rapporto profondo con la sfera del Sacro, rapporto che la tradizione cristiana ha esplicitato ulteriormente per la sua intrinseca natura di esperienza di fede nel Dio che si è fatto uomo. L'incarnazione manifesta che egli non solo non è strano alla vicenda terrena, ma la condivide in tutto eccetto che nel peccato. Considerato il concetto di incarnazione, la nostra esperienza, la nostra azione, vuole essere una nuova strada per una nuova evangelizzazione, per quel che concerne la cultura contemporanea secondo il fecondo filone dell'animazione teatrale. Il teatro è un varco, canale, mistero, secondo Peter Brock, perché il teatro è metafora stessa dell'immanenza, dello spirito che si fa corpo, dell'ombra che si fa cosa salda, dell'invisibile che diventa visibile. Cosa proporre alla cultura contemporanea, alle periferie esistenziali, ai distanti dalla preghiera e dalla fede in Dio a livello ecclesiale? Le sale della comunità ecclesiale, per raggiungere le periferie esistenziali e dialogare con la cultura contemporanea, dovranno trovare, secondo Peter Brock, dei varchi canali misteri, che non possono essere più concepiti da quella impostazione tradizionale fatta di sola catechesi verbale. Il verbale deve essere sostituito dalla multimedialità, proiezioni, filmati, immagini, video, musica ed altro. Pensate che San Bernardino da Siena è patrono dei pubblicitari e quindi delle immagini. Nella nostra cultura dell'immagine è molto attuale. Già nel 1400, quando predicava nelle piazze, portava sempre con sé il monogramma IHS, Iesums Ominum Salvador. Bernardino mai predicava senza un'immagine. C'è bisogno di entrare nella cultura contemporanea con proposte attuali di tipo artistico, multimediale, culturale, teatrale, musicale, cinematografico. In poche parole, la lezione classica del catechismo della Chiesa Cattolica ha senso solo ai maturi nella fede, non ai distanti chiamati da Papa Francesco le periferie esistenziali. Ogni comunità ecclesiale, parrocchia, dovrà avere una sala della comunità multimediale, dovrà proporre sia agli interni che ai distanti, che alla stessa cultura contemporanea, catechesi multimediali, laboratori teatrali, culturali, musicali, cinematografici. Solo in questo modo le sale della comunità potranno essere dei poli di attrazione verso i distanti, far interiorizzare il Vangelo agli ascoltatori ed entrare nella cultura contemporanea. Secondo uno studio di alcuni teologi laici, il verbale, la solita catechesi verbale, non fa interiorizzare gli aspetti e i contenuti. Dicono appunto che solo il Signore è possessore della verità, l'uomo non possiede la verità, il cristiano, il catechista, dovrà essere umile e farsi sostituire dalla catechesi multimediale. Gli stessi cristiani dovranno smettere di piangersi addosso se il mondo va verso strade sbagliate. I parroci devono dialogare con gli esperti della cultura, del teatro, della musica, del cinema e farsi consigliare da professionisti del settore e proporre ai distanti non catechesi ma cultura. È ormai utopia pensare di attrarre nuove generazioni alle periferie esistenziali con rigide catechesi, quell'impostazione io parlo, lui mi ascolta. Diversi distanti, attraverso questa impostazione rigida, sono fuggiti dalle sale della comunità ecclesiale. I parroci, i sacerdoti, dovranno collaborare con i laici impegnati a livello ecclesiale. Gli stessi, facendosi aiutare dai laici, dovranno trovare nuove forme di evangelizzazione per poter entrare nelle periferie esistenziali e nella cultura contemporanea. Come viviamo la missione all'esterno a livello ecclesiale? Siamo ancora ancorati alle solite catechesi rigide? E' questa la nostra proposta come associazione teatrale e culturale. Una nuova evangelizzazione, una nuova catechesi multimediale all'interno delle sale della comunità, sia per far interiorizzare gli aspetti a chi ascolta, sia per toccare le periferie esistenziali e la cultura contemporanea. Ecco, vi saluto, pace e bene a tutti i radioascoltatori di Radio Speranzia. La prossima puntata parleremo di un altro aspetto di San Bernardino da Siena. Non basta stenersi dal male se non fai le opere buone. E per quel che concerne il teatro, il rito è il teatro nella contemporaneità. Pace e bene. Grazie. Grazie.